Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo videotutorial firmato FabioAmbrosi.it L'argomento di oggi in realtà è un argomento che abbiamo già affrontato in passato, lo abbiamo già sviscerato durante un videotutorial live a fine marzo. Però, visto che stiamo portando avanti questo che è il corso introduttivo ad After Effects, credo sia utile ripassare quello che ci siamo detti in quel videotutorial live. Oggi vedremo come utilizzare la grafica essenziale sostanzialmente per lasciare al montatore video la possibilità di modificare le nostre creazioni, le nostre animazioni fatte con After Effects e quindi rendere più spedito e semplice il workflow fra il grafico che realizza la grafica e il montatore video che poi andrà ad inserire la nostra grafica nei filmati e nelle produzioni multimediali a cui si sta lavorando. In altre parole, noi faremo questo quest'oggi, ripartiamo dallo scorso tutorial quando abbiamo creato un sottopancia animato, eccolo qui. Quello che noi faremo quest'oggi è dare la possibilità al montatore in Premiere Pro di scegliere il nome e cognome, per esempio, Pinco Pallino e la qualifica, che ne so, montatore, e il colore delle nostre linee direttamente in Premiere Pro. Questo è possibile grazie alla grafica animata, è un modulo nuovo, un pannello nuovo di Adobe Premiere Pro e di After Effects disponibili dalla versione 2018 in poi. Quindi se avete una versione vecchia di Premiere o di After Effects dovete necessariamente aggiornare, ok? Quindi il montatore potrà personalizzare sostanzialmente il sottopancia e la grafica creata dal grafico direttamente in Premiere Pro, grazie al pannello della grafica essenziale. Il grafico farà l'animazione, sceglierà quali parametri il montatore potrà modificare e il montatore poi lavorerà in totale autonomia, senza più disturbare il grafico. www.fabioambrosi.it, sul mio sito internet c'è anche l'articolo di questa lezione, se volete approfondire, così come il corso integrale di After Effects, corso base, lo ripeto, stiamo imparando le nozioni fondamentali di questo software, quindi se già lo conoscete questo non è un corso che fa per voi. C'è anche il corso di Premiere Pro, anche lì, base, quindi per chi non ha mai aperto in vita sua un software di montaggio, tutti i video tutorial sono su questo canale YouTube, quindi iscrivetevi se avete voglia mettete un like, condividete e ovviamente c'è la pagina Facebook per restare in contatto, cercate Fabio Ambrosi, spuntate mi piace e appunto teniamoci in contatto. Bene, torniamo ad After Effects, come nelle migliori tradizioni ricominciamo da capo. Nella scorsa lezione, nello scorso video tutorial avevamo creato un sottopancia animato simile a quello che state vedendo qui in questo momento, ok? Quello che noi faremo adesso è dare la possibilità al montatore che poi lavorerà questo sottopancia e lo inserirà in un video, di scegliere il nome e cognome e la qualifica che più desidera e daremo anche la possibilità al nostro amico montatore di scegliere il colore delle linee che compaiono vicino al sottopancia, queste linee verticali qui. Bene, innanzitutto dovete aprire un pannello, un pannello che si chiama grafica essenziale. Se non lo avete aperto dovete andare su finestra e scegliere la voce grafica essenziale. Eccolo qua, clicchiamo e il pannello compare di default alla sinistra del monitor di anteprima. Successivamente dobbiamo scegliere nel nostro pannello della grafica essenziale quale composizione vogliamo esportare. Io per realizzare questo sottopancia ho utilizzato tre composizioni. La composizione master, che è quella che poi esporterò, che contiene tutta la mia grafica. Ho creato la composizione sottopancia, che in altre parole è semplicemente l'animazione nuda e cruda. E ho creato un'ulteriore composizione che contiene esclusivamente il testo. Quindi io nella grafica essenziale devo scegliere quale composizione voglio esportare. Scelgo in questo caso la composizione master perché è questa la composizione che voglio esportare in Premiere Pro. Do un nome al template che sto per esportare, sottopancia, linee, verticali, ad esempio. Vado a trascinare in questo spazio tutte le proprietà che io voglio lasciare modificare al montatore video. Per esempio nome e cognome, il testo, come fare? Bene, navigo nella composizione che contiene il testo nudo e crudo. Scelgo la voce, o meglio seleziono la voce testo sorgente e la trascino all'interno del pannello grafica essenziale. Vedrete che possiamo scegliere di dare un nome a questo testo, in questo caso qualifica. Facciamo la stessa cosa per il nome e cognome. Quindi ancora una volta, testo sorgente, lo trascino dentro al pannello della grafica essenziale, do un nome, nome e cognome. Posso scegliere l'ordine ovviamente di comparsa, posso scegliere l'ordine ovviamente e come dicevo voglio scegliere anche, voglio far scegliere al montatore anche il colore delle linee verticali. Bene, vado nel livello forma che ho utilizzato per creare queste linee verticali, individuo il parametro responsabile del colore delle linee verticali, in questo caso sotto alla forma 1 trovo la proprietà traccia 1 e qui c'è la proprietà colore. La trascino anche qui dentro al pannello della grafica essenziale e lo rinnovino, per esempio colore linee verticali. Ecco qua, ho preparato un template. Devo salvare il progetto, ovviamente, e cliccare poi su questo bottoncino chiamato esporta modello di grafica animata. Clicco, compare una finestra. Questa finestra mi permette di fare alcune scelte, ma la più importante tra queste scelte è dove vogliamo esportare. Possiamo esportare direttamente nella libreria di Adobe, che è condivisa fra le varie applicazioni, ma nel mio esempio voglio esportare sul disco, quindi scelgo la voce selezionata già di qui in precedenza, unità locale. Seleziono, posso ovviamente, anzi devo, indicare a Premiere dove voglio esportare, in questo caso do una directory che ho già preparato, quindi sotto pancia, linee verticali, salva. A questo punto possiamo ignorare le altre opzioni, per il momento clicchiamo su ok. Ok, il template viene esportato, se compare questo avviso leggete attentamente, ci indica che i seguenti due font non sono stati sincronizzati da Adobe, Times, New Roman, bla bla bla, e dice per il modello di grafica animata verrà segnalato che sono richieste font non disponibili in Adobe. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi due font che io sto utilizzando per questa animazione non sono presenti, non sono sincronizzate con il servizio Adobe Font, quindi se noi dovessimo passare questo progetto grafico, questo template, ad un montatore che sul suo computer non ha questi font, questi font verranno visualizzati in maniera imprecisa. Quindi ovviamente quando utilizzate dei font dovete assicurarvi che anche il montatore o l'operatore che utilizzerà il vostro progetto abbia sul suo computer i font che voi avete utilizzato. Questo comunque è un messaggio di avviso, non è assolutamente ostativo, clicchiamo su ok, perfetto, è stato esportato il nostro template grafico. Eccoci in Premiere Pro, anche qua dobbiamo aprire il pannello della grafica essenziale, quindi finestra e scegliamo la voce grafica essenziale, verrà aperto questo che è il pannello della grafica essenziale di cui abbiamo parlato abbondantemente nel corso introduttivo a Premiere Pro. In basso, qui c'è un bottoncino che cliccato ci permetterà di importare il template grafico che abbiamo appena esportato da After Effects. Eccolo qua, lo ricordate? Sottopancia, linee verticali, apri, fantastico. Il nostro template è stato importato, lo cerchiamo, eccolo qua, lo trasciniamo nella timeline, eccolo qua, possiamo cliccare su modifica, dopo averlo selezionato chiaramente in timeline, e come potete vedere qui possiamo decidere il nome, il cognome, la qualifica e il colore delle linee verticali. Facciamone verdi, facciamo un po' di spazio, ed ecco che il nostro template grafico adesso avrà le linee verticali verdi. Molto semplice, ne abbiamo già parlato in un video tutorial live di fine marzo, recuperatelo qui su YouTube, ho linkato in alto a destra in questo momento il video del tutorial live, in cui abbiamo perso molto tempo per spiegare questa tecnica, abbiamo visto anche come inserire un in e un out al nostro template grafico. Per il momento mi fermo qui, perché questo è un corso comunque introduttivo ad Adobe After Effects, grazie per avermi seguito, www.fabioambrosi.it, sito internet dove troverete questa video lezione, oltre ad altri articoli, fateci una capatina e buttate un occhio, iscrivetevi a questo canale YouTube, mettete un like, condividete, passate parola, e ovviamente c'è sempre la pagina Facebook, cliccate Fabio Ambrosi, mettete un like, iscrivetevi a quella pagina e teniamoci in contatto. Grazie, 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 al prossimo video tutorial.